Robert Whittaker rompe in silenzio sul suo infortunio. The Reaper, ex campione, pesi medi ed ultimo sfidante al titolo di Israel Adesanya, avrebbe dovuto affrontare Marvin Vettori in un match che aveva tutta l'aria di essere una title eliminator, la UFC 275 in quel di Singapore. Qualche giorno fa però abbiamo tutti visto i post pubblicati dal nostro Marvin che lasciava presagire un nuovo match saltato, dopo tutti quelli che erano stati incredibilmente cancellati, a cavallo tra il 2019 e il 2020. Mi dispiace ragazzi, ma a causa dell'infortunio che ho rimediato ad inizio camp non sarò in grado di combattere a giugno. Ho fatto tutto quello che potevo per rimettermi in carreggiata, ma non sarebbe guarito in tempo. Ciò vuol dire che tornerò nell'ottagono soltanto con qualche mese di ritardo, e tornerò meglio che mai. Insomma, una dichiarazione nel classico stile di Whittaker, super sportiva, ma che apre la porta ad un'annosa questione. Chi come prossimo avversario di Marvin Vettori? L'idea di The Italian Dream sarebbe uno degli Smash Brothers, vale a dire o Cam Zattone, o meglio ancora, quel Darren Till che avrebbe dovuto affrontare in passato, quando poi fu Kevin Holland a subentrare. E nel corso di una diretta Instagram, Marvin ha analizzato un po' tutta la vicenda, soffermandosi anche sulle sue possibili preferenze in merito ad un nuovo avversario. Il match è stato cancellato, Whittaker è uno dei pochi medi con cui non ho problemi, avrà avuto le sue ragioni per non poter combattere, e gli auguro una buona guarigione. Volevo veramente tanto questo incontro, perché con una vittoria sarei sicuramente entrato nei ranking pound for pound, ma sono certo che prima o poi ci affronteremo. Till ormai si sta divertendo a fare l'amichetto con Cimaev ed è inaffidabile, ma mi deve un incontro. Kamzat invece mi piace, è un vero fighter, credo che mi spingerebbe a tirar fuori il meglio di me, quindi se vuol venire a prendere a pugni una faccia italiana, che lo faccia pure, lo accoglierò volentieri. Paolo Costa invece non avrebbe molto senso, pesava 20 libri in più di me, ma l'ho battuto ugualmente. Ho preso il suo posto, i suoi soldi, nonostante avesse provato ad imbrogliare. Insomma, una situazione molto ingarbugliata e ancora in divenire, però sappiamo già che Paolo Costa non fa parte delle opzioni di Marvin. E in effetti, ragazzi, concordo con questa scelta perché fondamentalmente Costa non può più di nulla. E anzi, un eventuale match che sicuramente sarebbe visto di buon occhio da parte della federazione potrebbe offrire un'altra chance a Paolo Costa che, secondo me, non c'è né la necessità né il senso logico di offrire. Quindi, secondo me, in questo momento non serve più guardarsi in basso, se non appunto con Till e Cimaev che offrirebbero sicuramente un apporto mediatico interessante. E per quanto riguarda quello che rimane in alto della classifica di Marvin Vettori, ci abbiamo già Red Cannonier. Cannonier, io ragazzi, lo lascerei dove sta perché fondamentalmente ha una fanbase più che altro americana, quindi non è il fighter strafamoso e straapprezzato in tutto il mondo. Ha uno stile gestibile per Marvin, tecnicamente, perché Marvin può vantare più livelli. Ma comunque sia, Cannonier ha delle mani veramente, veramente pesanti e possono essere determinanti in un match a 5 round. Quindi io Cannonier lo eviterei e me la giocherei più volentieri con Whittaker aspettandolo o altrimenti, non lo so, fatemi sapere nei commenti se vi viene in mente qualche altro fighter della stessa categoria che possa sfidare il nostro Marvin Vettori. Un saluto da Italian Fight Magazine, il più grande canale di MMA che parla italiano. Ciao!